Un monitoraggio su tutti i ponti e viadotti nel Sannio. Questa è la richiesta del Governo alla provincia di Benevento che questa mattina ha riunito la struttura tecnica per fare il punto della situazione. Partirà una immediata ricognizione sulle decine e decine di ponti che noi abbiamo. Le decisioni saranno prese caso per caso. Il Governo con una nota di poche ore fa ha chiesto all'amministrazione provinciale di Benevento una relazione diciamo sullo stato dell'arte. In 15 giorni ci impone dei provvedimenti e delle risoluzioni del caso per le quali non occorrerebbero 15 giorni ma occorrerebbero 15 anni insomma. Ricci mette in evidenza tempi strattissimi e risorse inesistenti. Io mi dovrei trasformare in mandrake insomma o nel mago battista insomma per fare. In 15 giorni questa è una cosa che veramente mi lascia perplesso. In tutta Italia noi abbiamo delle infrastrutture, in questo caso parliamo di ponti e viadotti, che hanno anche 60 anni di vita, 70 anni di vita. È difficile anche reperire gli incartamenti, i progetti, i collaudi. Quindi è complicato. Nel momento in cui emergeranno delle situazioni ma è chiaro che qui c'è bisogno di fondi. E in città attenzione puntata sul ponte San Nicola. Domani nuovi sopralluoghi e la discussione in giunta. Poi una conferenza stampa a Palazzo Mosti.